Saresti potuto uscire dall'aula a testa alta e io l'avrei accettato, Nick. Io ci vivo a testa alta e tu sei in ginocchio. Pensa che ho appena cominciato. Sarò come Von Clausewitz e vi scatenerò contro una guerra. Farò crollare tutto il sistema. Farò crollare quel fottuto tempio corrotto e malato sulla tua testa. Sarà un evento biblico.